Ben ritrovati amici in visione in ascolto, ben ritrovati con Gianluca Terranova che adesso si allarga l'immagine, è qui alla mia sinistra, tra tutti e due siamo abbastanza, riempiamo lo spazio, una certa fisicità abbiamo e stiamo parlando in realtà di Gabriele Adorno nel Simon Boccanega, Gabriele Adorno è ruolo tenorile ma non protagonista, in realtà anzi addirittura nel prologo non è almeno nato forse perché entra in scena direttamente, se è nato è proprio piccolo piccolo, entra in scena direttamente nel secondo atto, in un'opera dove Verdi ha privilegiato in realtà i registri bassi, i due rivali sono un barito non basso e però c'è questa figura di tenore estremamente nervoso, estremamente... Beh anche la voce del tenore è una voce comunque richiede delle note... Non belcantistica, è verosimile... Sì magari, sì, dici verista, diciamo che il termine non può essere usato perché siamo nel pieno... però in effetti è un gentiluomo che a un certo punto si arrabbia molto per gelosia, questo forse ti fa pensare a un turidu in effetti, perché poi è un nobile, lui ha questo grande amore per Amelia e ha un grande amore per la politica, per Patrizzi, per la sua... Esatto, sta contro il doge insieme a Fiesco che però sappiamo che lui trama contro il doge non tanto politicamente quanto... Anche i motivi personali. Esatto, i motivi personali, questo sta proprio a sottolineare il fatto che in questa opera Verdi proprio entra dentro l'animo umano di ogni singolo personaggio, nell'anima, nel cuore e nell'intimo proprio, perché anche Gabriele a un certo punto mette in disparte i suoi principi, i suoi valori, diciamo, politici, per gelosia. Così come il doge ha tutto questo tormento dall'inizio alla fine, così come Fiesco ha il suo, anche Gabriele ha un momento di grande... così... si lascia andare all'istinto, perché la gelosia è un istinto che è irrefrenabile a volte, e a quest'aria meravigliosa dove deve uscire un tenore appunto non proprio belcantista. Ma diciamo che sono quasi tutti ruoli effettivamente un po' atipici, perché forse lo dicevamo prima con Vassallo, con Simon Boccanegra, è vero che è stata un'opera che poi è stata riproposta negli anni venti, nella seconda parte dell'ottocento, poi è accaduto un po' nel dimenticatoio, perché non ha delle grandi arie orecchiabili e famose come altre opere di Verdi, ha una trama molto complessa e forse troppo moderna per quando è uscita, perché ci sono queste verità parziali, no? Gira tutto, c'è una donna e poi c'è il padre, il nonno e l'innamorato e gira tutto intorno a lei e nessuno sa tutta la verità fino alla fine, ci sono queste verità parziali, quindi sembra più una trama del Novecento, una trama alla Strindberg che non... Esattamente, come hai detto te, è molto moderna e anche musicalmente molto moderna, ha dei cambi di tonalità, ma sembra a volte la musica di oggi che fanno per i film, per i grandi film, perché è proprio attaccata a quello che succede la musica. Sì, ma proprio anche come armonie, come uso del coro, è un uso a volte molto molto violento e non ha dei cori così come erano quelli risorgimentali nell'epoca. Il coro del piano, quasi molto maschile. Usa tutto, esattamente, come dici tu, usa tutto sia coro sia orchestra, tutto per... In funzione della sceneggiatura si direbbe il cinema, no? Esattamente, ecco perché faccio riferimento con i film di oggi. Ed è un ruolo che a me sta molto a cuore perché vocalmente lo sento molto molto vicino alle mie corde e poi in questo momento che sto un po' cambiando repertorio... Sì, in fase di transizione. Sono in fase di Don Carlo, sto studiando la parte perché la debutto nella prossima stagione e quindi questo Gabriele Adorno è proprio... è capitato. Sì, sembra proprio Deutio, fra l'altro Don Carlo ha altra opera piena di bassi e di... Sì, e tra l'altro anche lì il tenore non ha neanche, diciamo, una sua sortita... C'è un parallelo, eh, con Don Carlo, effettivamente sono cugine prime queste opere. Sì, e musicalmente sono fantastiche, hanno delle... secondo me... proprio a livello di... non c'è quell'aria, ecco, tipo, non so, la Traviata o la Rigoletto che... Sì, sì, la donna è mobile, ecco, ecco... Sì, però è... proprio per questo è più moderna, si avvicina già a Puccini, si avvicina a quella... Basta pensare solo all'ingresso orchestrale del primo atto, no? Madonna mia, sì. Che veramente mette i brividi, è... Sì, questo moto... Non sembra nemmeno, per assurdo, non sembra nemmeno Verdi, non è Verdi tradizionale, è una cosa... È un Verdi, quel pezzo lì è del 1879, fra l'altro non è la parte del 57, fra l'altro sono passati vent'anni sul serio, i venticinque anni che passano... Lui non capiva, lui non capiva perché è stato un insuccesso, Verdi, non si... Chiamava il mio figlio Gobbo, lo chiamava, diceva... È vero, è incredibile perché poi dopo invece adesso è rivalutato, lo stanno facendo tanto... Ma perché è modernissimo, perché fosse uscita prima del tempo, effettivamente era fuori tempo quando è uscita... Aveva questa esigenza di uscire fuori da quella trio di opere meravigliose, popolari... Era quella subito dopo, effettivamente... Evidentemente si sentiva ingabbiato in questa cosa, se avesse fatto un'opera simile con le stesse strutture chiuse... Sì, probabilmente o diventava un doppione o non aveva abbastanza successo perché c'era già... E quindi ha osato, ha osato e poi da qui è arrivato dove sappiamo, insomma... Tra l'altro ho una mia teoria che secondo me, quando è uscita nel 57, non c'era ancora l'unità d'Italia, no? Per cui sentiva un po' l'obbligo di puntare più sulla politica che sul personale. Quando ha potuto farla nell'87, quando c'era già stata l'unità d'Italia, si è potuto dedicare all'ospiro, alla psicologia dei personaggi. E' lì che secondo me viene fuori la bellezza, no? Ha perso, non aveva... non doveva più dimostrare niente. Abbiamo il privilegio di questo italiano, eh? Caspita! Per noi, perché insomma tutti noi colleghi giriamo il mondo... Ogni tanto io faccio questa riflessione che privilegio poter cantare nella mia lingua queste opere di questi genitori... E tutti sono costretti a capire l'italiano, è l'unico veicolo dell'italiano. Tutti si mettono a studiare, tutti vogliono parlare... Io che vado fuori e dico no, fammi parlare in inglese così imparo un po'... No, no, preferisco parlare in italiano. Pazienza! Pensa la fortuna! E' una grande soddisfazione, non solo grande fortuna. Grazie a Verdi, quindi io dico grazie ai nostri compositori, Verdi è forse al top. Ebbè, è il numero uno dell'800. Noi abbiamo veramente l'obbligo e il dovere di servire queste partiture al meglio, studiarle fino in fondo, perché quando vai più le studi... Io adesso l'ho già debuttata, adesso la sto provando, già siamo arrivati qui a fare le recite, eppure apro lo spartito e dico oh ma questa... Ah vedi, questa cosa qua potrei farla così, c'è sempre da scavare su quello spartito. Secondo me meglio di così, dobbiamo fermarci per forza, perché a questo punto il pubblico non solo, tanto devono venire a teatro per forza, perché ripeto, chi è lontano lo streaming, noi siamo un buon surrogato per chi non può. Ma chi può a teatro è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, infatti. Io saluto tutti quelli che ci guarderanno da streaming, perché... Siamo in diretta il 22 sera, dopo domani. Saluto tutti quanti, so che siete a big hug. Eh ma di solito 40 paesi e una decina di migliaia di persone ci sono collegati, quindi insomma, speriamo che anche quest'anno... Complimenti per questo servizio, che è stato, penso, uno dei primi in Italia. È stato il primo e continua ad essere gratuito, che è una cosa a cui a Genova fra l'altro teniamo molto, perché già abbiamo una fama che non è propriamente... Noi lo sottolineiamo, è completamente gratuito e fermamente vogliamo che continui a essere... Io sono contento perché papà e mamma a Roma possono vedermi in diretta, quindi loro non possono venire... Infatti c'è la mappa, quando c'è il tenore coreano, collegamenti della Corea, abbiamo la mappa dei collegamenti, si vede... Beh qui da Roma avrete... Da Roma e da Milano avremo la mappa. Dunque, prima di concedarci, la cerimonia della firma... Ecco, sì. Allora... Dove vuoi? Sotto. Bene. Eh, Simon Boccanegra comanda in questo caso. Sotto è anche un pochino più piccolo del doge. E anche lì... Rispetto al doge. Umilmente, umilmente. Beh, ma tu sei il doge che viene dopo comunque. Io sono un nobile genovese. No, facciamo un spoiling, ma alla fine diventi doge poi alla fine. Divento doge e però il coro dice no, non lo vogliamo. Questo momento di... Così come lui diventa doge quando ha appena saputo che gli è morta la amata. Però per un attimo sono doge anch'io. Si chiude il sipario. Da Gabriele Donno doge e chiudiamo il sipario. Vabbè, almeno ci salviamo. Grazie mille, sei stato disponibile come al solito. Alla prossima. Ciao.